ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato anche oggi notizia gioia ultimamente sono pieno di notizie e felicità quanta buon umore porto nelle vostre case allora vi racconto oggi la storia del signor duval il quale nel 2018 una storia che comincia triste ma finisce bene viene licenziato lavorava per un'azienda che lavora nel campo della salute nelle medicine la novant health del north carolina viene licenziato e nota che al suo posto vengono assunte due donne di cui una di colore per carità benissimo però gli sembrava anche guardando il curriculum delle due persone che non fossero proprio quali qualificatissime per la sua cosa perché comunque il signor duval non era un operaio che puliva le piante ma era un manager di altissimo livello in una in un'azienda insomma quando si lavora nel campo della salute è molto importante avere le qualifiche giuste per portare avanti certi lavori e allora molti avranno detto sì ma se tu pensi male forse perché sei bigotto perché sei prevenuto e bla 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 fatto sta che però c'è una cosa che gli psico fanatici woke progressisti americani sono convinti che quello che è giusto nella loro testa è giusto anche a livello legale quindi non solo lo hanno licenziato per far posto a due donne convinti che si fosse importante la diversità l'inclusione bisogna scegliere le minoranze bisogna assumere soprattutto quelli la meritocrazia non conta più niente zero nada de nada doppio zero ma la legge nei paesi civili punisce chi discrimina anche se nella sua testa è convinto di essere il salvatore dell'umanità e questi geni cosa facevano lo mettevano sul sito nel nostro imperativo è dare più spazio alle donne alle minoranze alle persone di colore eccetera 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 il signor duval a questo giochino non c'è stato ha fatto causa portando come prove quello che loro stessi scrivevano e come ulteriori prove anche il fatto che nell'arco di tempo brevissimo in cui loro hanno iniziato a scrivere queste cose sul loro sito vantandosi delle loro scelte erano stati licenziati solamente uomini e bianchi in tutta l'azienda c'era stata un'ecatombe di uomini bianchi e quindi lui ha fatto causa il giudice che è una donna nera gli ha dato ragione e adesso notizia gioia felicità 10 milioni a un maschio bianco per un caso di discriminazione e ce lo dice il super progressista super di sinistra new york times io direi che oggi chiudiamo così breve asciutto e felice ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto come sempre vi invito a condividerlo far girare un po di informazione cioè questo è il paese no dove tutti i giorni i giornali ci raccontano che i neri fanno una vita le donne i bigotti il maschilismo e poi chi viene licenziato per far posto alle donne di colore e l'uomo bianco ha la faccia del razzino ha la faccia della del privilegio bianco dov'è il privilegio bianco il privilegio mamma mia se sento uno che dice privilegio bianco gli rido in faccia volevo dire un'altra cosa ma siccome questa rubrica si chiama scazzo moderato dirò semplicemente che gli rido in faccia ci vediamo al prossimo video state informati ciao